Io adesso vi parlo di una cosa invece molto più semplice e pratica, partendo da una serie dei presupposti che io ho imparato frequentando gli ambienti e gli istituti da cui proveniva il primo allenatore negli Stati Uniti, che sono fondamentalmente questi. Alcuni pilastri della medicina funzionale, della medicina anti-aging sono togliere dal corpo ciò che lo danneggia, pilastro numero uno. Pilastro numero due è dare al corpo ciò che ha il potenziale di ripararlo, che sembrano delle banalità, ma non è che sia proprio così. Pilastro numero tre, se non sai da dove cominciare con un paziente, comincia dall'intestino. La ragione per cui cominciare dall'intestino è raramente uno sbaglio è in realtà questa, cioè c'è una tale quantità di persone che ha un qualche tipo di sintomo di disturbo gastrointestinale che è molto difficile sbagliarsi. Addirittura si stima che l'ottanta per cento delle persone che va a vedere il proprio medico di famiglia vada per o comunque abbia anche una qualche problematica gastrointestinale. La dieta di eliminazione, che è quello di cui vi parlerò brevemente oggi, è un elemento molto centrale nella medicina funzionale, partendo proprio da questo concetto che tende a togliere per quello che riguarda gli alimenti, non è tutto ma si parte comunque dagli alimenti, tende a togliere ciò che potenzialmente può danneggiare, irritare, infiammare, disturbare, tende ad arricchire l'alimentazione di elementi che hanno invece una capacità curativa attraverso la loro azione metabolica e non solo, anche nutrigenomica e tende allo stesso tempo a risolvere o comunque a contribuire ad intervenire su un'area che è quella gastrointestinale che appunto è raramente si presenta in salute perfetta. Il 70% degli esseri umani si stima che abbiano qualche sintomo gastrointestinale, è uno dei sistemi, organi, tessuti con una sensibilità più elevata, esposto ad una serie molto lunga di potenziali danni. Si stima che il tratto gastrointestinale di una persona che vive circa 80 anni finisca col dover gestire un qualcosa come 30-40 tonnellate di cibo nel corso della vita. E chiaramente gestire vuol dire anche assorbire in modo tale che quei nutrienti che sono indispensabili arrivino a tutte le altre cellule, quindi un sistema estremamente complesso. Allo stesso tempo è un sistema che è una porta d'entrata per tutta una serie di problematiche che vanno ad incidere su altri organi. E proprio per cui lo dicevo, se non sapete da dove cominciare in termini proprio operativi con i pazienti, è una buona idea cominciare dall'intestino perché a sorpresa, magari anche senza sapere esattamente cosa è successo e perché, scoprirete che si ottengono risultati a livello sintomatico su distretti che sono molto lontani dall'intestino stesso. Quindi in sostanza si può immaginare un po' che il sintomo gastrointestinale sia in realtà nient'altro che la punta di un iceberg o forse che l'intestino stesso, per come lo conosciamo oggi, rappresenti nella vecchia idea la punta, nella nuova conoscenza, un universo molto ampio da cui poter, diciamo, iniziare un intervento complesso, integrato, olistico sulla salute del paziente. Beh, non ha molto importanza soffermarsi sui dettagli anatomici ma chiaramente stiamo parlando di un tessuto molto ampio con una serie di funzioni importanti che sono digestione e assorbimento, funzione di barriera e filtro, protezione immunitaria, sappiamo che il sistema immunitario intestinale è una componente fondamentale del sistema della protezione immunitaria complessiva dell'organismo e con funzioni simbiotiche tra il tessuto stesso e gli abitanti che lo popolano che sono una quantità enorme di batteri. Questa mattina abbiamo citato, Deanna ha citato il problema dell'intestino permeabile, è una cosa, un fenomeno che sta diventando via via più chiaro a partire, tra l'altro anche qui, da ricerche interessanti iniziali di un italiano che lavora negli Stati Uniti, Fasano, che cominciò anni fa a intuire che l'intestino non è come generalmente si tende a descriverlo un tubo ma è piuttosto un filtro e che questo filtro può avere delle capacità più o meno integre. In altre parole è un filtro che deve tenere fuori quello che non deve entrare all'interno dell'organismo ma allo stesso tempo deve far passare invece ciò che serve. È una funzione delicata che per vari motivi ma anche per motivi di tipo nutrizionale spesso viene persa e quando viene persa si parla in italiano, l'inglese suona sempre meglio, leaky gut fa più scena, intestino a colabrodo è un po' un termine che lascia un po' perplessi, comunque si parla di un aumento della permeabilità intestinale che provoca una serie di fenomeni che sostanzialmente possono essere riassunti nel fatto che non tenendo lontano tutta una serie di antigene, di tossine, l'intestino permette a questo punto che entrino nella circolazione ematica e questo carico di sostanze a cui l'organismo non è preparato attivano il sistema immunitario dando vita a tutta una serie di reazioni che sono infiammatorie e che possono potenzialmente contribuire ad altre patologie che non sono specifiche del tratto gastrointestinale. Quindi dati esistenti in letteratura mostrano una qualche connessione tra il fenomeno del leaky gut e la serie di patologie che vedete qua, compreso il diabete, le allergie, l'asma, l'artrite, le patologie del fegato, l'autismo e anche adesso si parla di un'associazione tra leaky gut, obesità e sindrome metabolica. Esiste come test diagnostico, esiste un test che permette la valutazione della presenza o meno di questo fenomeno del leaky gut, è un test non comune in medicina di laboratorio, abbastanza accessibile negli Stati Uniti ma adesso anche in Italia ci sono laboratori che si stanno attrezzando a fare questo test e che è un test in realtà abbastanza semplice, si beve una miscela di zuccheri con peso molecolare differente e se lo zucchero con peso molecolare maggiore viene ritrovato nelle urine è indicativo di leaky gut. Quali possono essere gli iniziatori di questi fenomeni? La dieta, l'uso di farmaci, le infezioni, le tossine, gli squilibri che possono esserci nella flora batterica intestinale sono tutte potenziali cause di questo fenomeno. Vi faccio vedere un secondo quali sono i più comuni allergeni alimentari perché la dieta di eliminazione cosa vuol dire? Vuol dire senza fare necessariamente dei test diagnostici, possono essere anche fatti ma non necessariamente, si procede ad una eliminazione di quelli che sono i più frequenti alimenti che generano delle reattività, un'eliminazione che può durare 4-8 settimane, a seguito alla quale si fa poi un percorso di reintroduzione graduale degli alimenti e questi sono gli alimenti su cui ci si concentra nella fase di eliminazione, questi sono quelli che non devono essere presenti nella fase di eliminazione e sostanzialmente la dieta di eliminazione seguita per 6-8 settimane si concentra su questi alimenti molto semplici ma allo stesso tempo con i quali è possibile costruire una dieta bilanciata perché tutto sommato c'è un'introduzione sufficiente di proteine. Ecco un'altra piccola cosa quando si parla di proteine io credo che dovremmo sempre distinguere la qualità delle proteine perché noi abbiamo dei dati che possono anche essere interessanti sul consumo di carni rosse ma non esistono dati sul consumo per esempio di pesce e il pesce sono proteine animali quindi credo che vada fatto una distinzione la dieta di eliminazione per esempio mantiene una fonte di cereali ma utilizza il riso il riso integrale quindi ricco di fibra ma privo di glutine mantiene una quota di legumi che apportano sia fibra che proteine di origine vegetale mantiene un'ampia varietà di verdure di frutta mantiene una fonte probabilmente quella più passatemi in termine pulita di proteine animali che è il pesce mantiene l'olio di oliva extravergine mantiene il pollame all'interno delle 6 8 settimane ci sono molti nutrienti che possono essere utilizzati anche in forma di integratori a supporto e sostegno della fase di eliminazione come per esempio la fibra gli aminoacidi ramificati in particolare la glutamina che ha un'azione di vera e propria riparazione a livello degli enterociti gli acidi grassi omega 3 e una serie di altre sostanze che hanno dato sulle quali esistono dei dati che sembrano indicare una capacità una proprietà riparativa sulla mucosa intestinale. Ecco la dieta di eliminazione può essere assolutamente inclusa in uno schema in un approccio alimentare che io considero molto interessante che è stato proposto un paio d'anni fa dall'università di Harvard che tende a superare il modello della piramide anche perché diciamo la piramide è bella ma noi mangiamo su un piatto non su una piramide quindi è più semplice visivamente utilizzare il piatto il piatto e fare che cosa dire metà piatto deve essere dedicato a cibi di origine vegetale diciamo a verdure per cui mettono anche frutta l'altra metà piatto dovrebbe essere suddivisa in due porzioni una di proteine possibilmente fonti proteiche chiaramente corrette e quindi con per esempio un contenuto di grassi saturi che sia limitato preferenzialmente il pesce ma anche ovviamente le proteine di origine vegetale e una porzione di cereali integrali che come diceva prima il dottor Galimberti credo vengano un pochino sottovalutati in tutta questa ondata adesso di diete proteiche di tendenza paleodietetica che vede nel cereale qualcosa di assolutamente negativo cosa che in realtà non è anche qui dipende da quanti ne mangi e dalle caratteristiche che hanno ecco questa potrebbe essere una lista un pochino più completa di quello che va escluso e quello che può essere incluso ma tutto sommato le categorie vedete che sono quelle che abbiamo menzionato prima e questa potrebbe essere una lista della spesa che mostra quali quali sono gli alimenti su cui puntare e dove o come distribuirli nel corso della giornata ecco per finire uno schema molto semplice anche di una sorta di flow chart che aiuta a capire come gestire una dieta di eliminazione la dieta di eliminazione si inizia come ho detto prima quando si sospetta in un paziente che alcuni sintomi alcune manifestazioni possono essere legate all'esposizione di questo paziente ad alimenti che non tollera nella maniera corretta si può procedere per 6-8 settimane e vedere fondamentalmente che tipo di risposta si ottiene a livello proprio sintomatologico se in 6-8 settimane la risposta è stata molto buona quindi una serie di manifestazioni e di sintomi vengono in qualche modo a scomparire o perlomeno a ridursi significa che la pista che avete seguito era corretta e si può procedere anche alla fase successiva che è la rintroduzione mirata e graduale degli alimenti tolti che a mio parere non deve portare il paziente a tornare a mangiare tutto compreso tutto ciò che fa male perché comunque essendo questo un percorso educativo l'obiettivo dovrebbe essere reintroduciamo quegli alimenti che ti servono e che ovviamente ampliano un po' la varietà della tua dieta perché altrimenti è una dieta oggettivamente restrittiva ma teniamo anche da conto che abbiamo fatto uno sforzo per ripulire la tua alimentazione e cerchiamo di tenerla il più vicino possibile a questi criteri potrebbe anche esserci ovviamente nel caso in cui i sintomi non sono collegati a un aspetto di tipo alimentare gastrointestinale e quindi avete fatto un'operazione quantomeno non di totale successo ma io devo dire che nella mia esperienza con i pazienti ormai uso questo approccio da molti anni è quasi garantito che un miglioramento in qualche area lo vedrete dalla stanchezza al mal di testa a fenomeni di tipo dermatologico a tutta una serie di sintomi gastrointestinali è molto difficile che non vediate un qualche tipo di miglioramento ecco io mi fermo qui se avete qualche domanda credo che uno o due minuti li possiamo dedicare poi chiamiamo l'ultimo relatore quello che volevo sapere l'enfasi che si è dato molto sul pH alcalino è da confermare ancora che c'è questo miracolo del pH alcalino? la mia opinione su questo è che non è è uno dei tanti elementi che probabilmente hanno un peso ma io non concordo con chi di tanti elementi poi ne estrae uno e ne fa il fulcro di tutto per cui se c'è un'acidosi urinaria significa che sei spacciato non credo che sia così non sono convinto che i test che vengono normalmente utilizzati siano al 100% significativi e indicativi ma dirò di più fondamentalmente se uno garantisce per esempio con quell'approccio del piatto unico una sufficiente costante e continuo apporto di alimenti che alcalinizzano e parlo in maniera particolare degli alimenti di origine vegetale credo che il problema in sé sia non così pressante in realtà grazie a tutti